Allora, quello che sta succedendo oggi non è semplicemente lo stupro della Costituzione italiana, non è semplicemente il fatto che al Senato della Repubblica è stata messa di nuovo la ghigliottina, cioè la tagliola, e non saranno discussi gli emendamenti, cioè le modifiche al disegno di legge di riforma della Costituzione. No, quello che è successo oggi è molto più grave, perché quello che è in atto in questo momento è un disegno criminoso, e i cittadini italiani devono saperlo, un disegno criminoso che non riguarda soltanto la riforma del Senato, ma riguarda l'italicum, i nuovi metodi di elezione del Presidente della Repubblica, i due giudici che verranno eletti della Corte Costituzionale, la consulta e il palazzo qui di fianco, e gli otto membri che verranno eletti al Consiglio Superiore della Magistratura. Aggiungiamo a tutto questo la riforma della giustizia che arriverà a settembre. Bene, signori, questo pacchetto costituisce il patto del Nazareno, il patto tra Renzi e Silvio Berlusconi, il patto che stupra totalmente la Costituzione italiana, il patto che farà in modo che in questo Paese non viga più una democrazia, ma esista la dittatura completa. Tutto questo disegno criminoso lo stanno attuando a fine luglio, quando i cittadini italiani se ne fregano, quando i cittadini italiani sono impegnati magari ad andare al mare, a rilassarsi, a non prestare attenzione a quello che succede nella politica, perché a nessuno interessa quello che sta succedendo. E allora noi abbiamo bisogno d'aiuto, abbiamo bisogno d'aiuto perché siamo i soli che ci siamo indignati oggi davanti appunto, come abbiamo detto, alla violazione dell'articolo 72 della Costituzione. Ci è stato impedito di discutere, ci è stato impedito, ai nostri senatori è stato impedito di continuare una procedura normale che è scritta esattamente e letteralmente in un articolo della Costituzione italiana. Una procedura che prevede una discussione che sia il più possibile normale, che sia il più possibile completa, perché quando si riformano gli articoli della Costituzione bisogna che tutti i gruppi parlamentari, non solo la maggioranza, tutti i gruppi parlamentari devono avere la possibilità di esprimere la loro indignazione, di esprimere le loro critiche, di esprimere le loro proposte migliorative. Siccome qui c'è fretta, c'è fretta perché questo patto deve essere rispettato in tutto per tutto, il caro Renzi vuole che entro l'8 agosto queste riforme vengano approvate, vuole rendere il Senato della Repubblica un dopo lavoro per indagati, inquisiti e condannati, perché è questo che succede nelle regioni, è questo che avviene tutti i giorni. È mai possibile che siamo davanti ad un paese dove sulle grandi opere ci sono i corrotti e ricordiamo l'inchiesta sul Mose, ricordiamo le inchieste su Expo e ricordiamo gli arresti sul TAV. È mai possibile che siamo in un paese dove la corruzione costa 60 miliardi l'anno, siamo in un paese dove ogni 3x2 alla Camera dei Deputati arrivano le richieste di mandato d'arresto per deputati, oggi è arrivata l'ultima per Luigi Cesaro, Luigi Cesaro deputato di Forza Italia, ex autista del BOS Raffaele Cutolo, camorrista del clan dei Casalesi, questo soggetto è alla Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, questo soggetto oggi è stato raggiunto da una richiesta di mandato d'arresto perché è accusato di concorso esterno in associazione camorristica, nello specifico clan dei Casalesi, fazione Bidognetti e tanti altri capi di imputazione ancora. Allora abbiamo appena finito di votare l'arresto per Genovese, abbiamo appena finito di votare il mandato d'arresto per Galanna, adesso arriva pure per Luigi Cesaro, la Camera dei Deputati appunto era idotta in questo modo, con condannati, indagati, prescritti e di tutto di più, al Senato la stessa cosa e in questo momento queste persone stanno riformando la Costituzione italiana e stanno violando l'articolo 72 della Costituzione, voi dite se questo è un paese normale, l'unica cosa che possiamo fare per riuscire a guardarci in faccia la mattina, per riuscire a guardarci davanti allo specchio, per avere la coscienza pulita è informare, informare tutti il più possibile e fare in modo che le persone di questo paese si rendano conto che così non si può più andare avanti. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei cittadini, non possono 150 parlamentari fare tutto da soli, abbiamo bisogno che il Presidente della Repubblica torni ad essere il garante della Costituzione italiana, abbiamo bisogno che le istituzioni, il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, si rendano conto che non si può avvallare un disegno criminoso fatto con il condannato Silvio Berlusconi, non si può andare avanti così e da vent'anni che ci ritroviamo in questa situazione vogliamo andare avanti, non ce l'hanno fatta cambiare la Costituzione nel 2006, vogliono farsela oggi, dopo che questa consulta, dopo che in questo palazzo 15 giudici hanno deciso che la legge elettorale è incostituzionale, dopo che hanno sancito che noi parlamentari in realtà non dovremmo stare lì perché siamo stati eletti con una legge incostituzionale, il Porcellum scritto dai calderoli di turno nella precedente legislatura, questa è la situazione a cui siamo di fronte. Allora, per favore, aiutateci a informare tutti, aiutateci a far valere i principi e i valori fondanti di questo Paese, aiutateci perché in questo momento la situazione è grave e invece di parlare di disoccupazione di lavoro, invece di fare norme che servano ai miei coetanei, i giovani di questo Paese che prendono, si laureano e poi devono scappare dall'Italia, invece di pensare ai pensionati, ai disoccupati, ai lavoratori di questo Paese, agli imprenditori, invece di pensare a tutto questo, tutta l'attenzione volta alle riforme costituzionali e al rispetto del patto del Nazareno. Non se ne può più, è ora di finirla.